Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Passaparola per i miei consigli sul meglio delle produzioni audiovisive francesi da vedere in questo mese di ottobre. Iniziamo come sempre da un'uscita a sala, il nuovo film di Boris Loikin, La storia di Suleyman, in uscita il 10 ottobre con Academy 2, film che si è portato a casa a ben due premi all'ultimo festival di Cannes, Premio della giuria e Miglior Attore ad Abu Sanghar, due giorni nella vita di un rifugiato Suleyman che gira in bicicletta in un mondo iper sfruttato e subappaltato del delivery, mentre prepara un discorso totalmente inventato per richiedere asilo politico, l'unico modo per rimanere in Francia legalmente. Il suo quotidiano mostra l'indifferenza, il continuo soppruso e lo sfruttamento che non arriva solo da parte di chi è al potere, diciamo, ma anche da chi è stato o è nella sua stessa situazione. Uno sguardo senza giudizio, quello di Loikin, quasi documentaristico, che vale tutti i premi che si è guadagnato. In streaming dal 23 ottobre su Netflix invece seguiamo la scia della spooky season, complice ottobre ed Halloween, e ci abbandoniamo ad una commedia fantasy per tutta la famiglia. Lupi Mannari con Jean Reno, capo famiglia strampalato, catapultato con figli e nipoti nel Medioevo alla caccia di Lupi Mannari appunto, per poter ritornare a casa. Un film divertente, godibile dal buon ritmo, perfetto per una serata a tema, e che conta sulla partecipazione di attori eccellenti come Suzanne Clamont e Frank Dubosc. Il 4 ottobre intanto Sky Cinema, alle 21.15 e in streaming su Now, ci regala Il gusto delle cose di Tran Ahung, o come lo abbiamo conosciuto in maniera festivaliera, La passion de Daudain Buffon, storia d'amore, condivisione dell'amore per la cucina, tra lo chef Daudain e la sua compagna Eugénie. Ambientato nel 1885 e con Benoit Magimel e Jules Binoche a interpretare Daudain e Eugénie, siamo di fronte ad alchimia culinaria, a condivisione e affinità elettiva. Il film vale la pena di vederlo solo per la sua sequenza iniziale, celebrazione del gusto e della cucina, tra pentole, fuochi, arte del cucinare, una danza. Grazie a tutti.